Benvenuti ad Acqua e Sapone News, il notiziero del risparmio e della convenienza. Diamo subito la linea alla nostra inviata Costanza. Caracciolo! Grazie ragazzi, Borotalco in promozione. Gli spray e roll-on sono a soli 2,25 euro. Prova la nuova variante zero sali con formula delicata 0% sali di alluminio e 100% profumo inconfondibile di Borotalco. E solo d'acqua e sapone con l'acquisto di due prodotti Borotalco, di cui un deodorante, in omaggio un mini spray da 50 ml. Franci, tu cosa usi per l'igiene della bocca? L'isterine. Siamo fatti l'uno per l'altra. Listerine, grazie alla sua formula unica, elimina fino al 99% dei batteri ed è prodotto in Italia. La linea di colluttori Listerine da 500 più 95 ml è in offerta a 3,99 euro. E solo d'acqua e sapone per ogni colluttorio Listerine acquistato in omaggio uno spazzolino Rich. E se ne acquisti due, ricevi anche una pratica pochette. Franci, manca solo un mese al Natale, io sto già pensando al cenone. Brava, gli uomini vanno presi per la gola. Che prepari? Cannolo, crema chansilini e cipolla. Acqua e sapone, oltre la convenienza. Grazie. Grazie. Grazie.